Per il secondo anno consecutivo Noval organizza una fiera dedicata ai professionisti della ristorazione, tantissime aziende italiane sono giunte qui un po' da tutti gli angoli dello stivale per raccontare la loro esperienza nel campo della qualità e proporre i loro prodotti d'eccellenza ai ristoratori del territorio. Vediamo. Noi puntiamo assolutamente su prodotti di qualità, i nostri partner sono partner scelti per la qualità dei loro prodotti, per la loro collaborazione, per la capacità di innovare costantemente sul mercato. Il programma è questo che ho scelto sia in Noval che in Cooperativa dove sono anche presidente, è proprio quello di uscire dalla bagarre dell'anonimato, di uscire fuori purtroppo anche se c'è recessione, di dar prodotti di qualità con dei prezzi piuttosto competitivi o comunque abbastanza abbordabili a qualunque tipo di cliente. Con Noval, che tra l'altro è un'azienda di primaria importanza nella provincia di Torino e che con noi collabora da molti anni, abbiamo deciso di presentare un prodotto particolare che è l'ievito madre. Si parla di un prodotto con il concetto classico dell'ievito madre che nasce storicamente in pasticceria e in panificazione. Poi noi nel 99 abbiamo sviluppato questo prodotto anche nel settore della pizzeria, con uno stabilimento produttivo distaccato dall'azienda molitoria vera e propria e presentiamo questo prodotto ma soprattutto i benefici che l'utilizzo di un lievito madre comporta utilizzandolo all'interno dell'impasto da pizza. Quindi qui presenteremo tutta la gamma dei nostri prodotti ovviamente alla clientela con l'aggiunta di questo prodotto molto particolare. La qualità dei prodotti deriva ovviamente dalla materia prima. Il grano che noi acquistiamo ha una provenienza mondiale, nel senso che dal grano Manitoba, piuttosto che dal grano australiano, piuttosto che dai migliori grani europei. L'abilità sta nel miscelare opportunamente le farine che derivano dalla macinazione di questi grani per ottenere una serie di prodotti. In questo caso parliamo di farine di tipo doppio zero, ce ne sono sei tipi. La differenza è la forza che ogni prodotto ha e quindi i tempi di lievitazione che bisogna dare all'impasto perché il prodotto sia correttamente lievitato e maturo. Il nostro punto di forza è sì sulla qualità delle materie prime, ma la forza principale a mio avviso è la costanza qualitativa che noi riusciamo a dare nei 12 mesi all'anno. Cerchiamo di far capire al cliente che cos'è il lievito madre e soprattutto come noi suggeriamo l'uso di questo prodotto. Tutto molto semplice, abbiamo un prodotto essiccato che quindi si conserva molto bene anche in magazzino e questo è un po' quello che noi rappresentiamo oggi.